comunque la nostra Repubblica, però mette le foto di Taormina, mette quattro foto del teatro greco, ritoccate, vecchie, trite, ritrite, ritoccate a favore di Giardini Naxos, non di Taormina, dove vengono abilmente al computer ritoccate alcune zone di Naxos, che sono quelle dello scempio famoso alberghiero, eppure compare Taormina, compare il teatro greco, compare forse quattro tavole di meno al teatro greco, ma non è quello il problema sostanziale. Sul porto ci siamo impegnati? Abbiamo fatto, non so, vero Dino, quante conferenze di servizi sul porto? Participate, poi voltate alla Regione, il tentativo della Regione di portarle a Palermo e quindi levare Taormina dalla propria precipituità di padrone di casa, eppure anche lì, visto che non abbiamo attributi, Dino, siamo stati forti. Abbiamo tenuto a Taormina, e grazie anche a te, questo pallino che deve restare a Taormina come scelta, e chiederemo alle prossime discussioni che venga rispettato il piano che il Consiglio Comunale ha presentato e che vuole un porto a misura di Taormina, con un certo numero di posti barca, senza insediamenti a terra, senza strutture alberghiere e senza quello che rappresentavano Scempio, ma non l'abbiamo permesso, vero Dino? Non l'abbiamo permesso a nessuno.